Della aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella più bella di te. Bella tu sei qual suone, bianca come la luna, e le stelle più belle. Grazie. 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 Il Signore Gesù mi rinanziamo con il Padre Giacomo e gli amici dell'Associazione Madonna del Buon Camino per questo dono che ci fate in questo giorno. E ringrazio tutti, non immaginavo che saremmo stati così tardi, perché la continua in silenzio per tutta la giornata e anche la notte. Ringrazio anche tutti che siamo riusciti a coprire le 24 ore, è molto bello, non lasceremo, per così dire, mai in sola la Madonna che insieme con me adoreremo il Signore. Grazie a tutti, buona preghiera, buon lavoro a chi adesso, fra poco, si prepara per la donna. Grazie a tutti, buon lavoro a chi adesso, fra poco, si prepara per la donna. Grazie a tutti, buon lavoro a chi adesso, fra poco, si prepara per la donna. Grazie a tutti, buon lavoro a chi adesso, fra poco, si prepara per la donna. Grazie a tutti, buon lavoro a chi adesso, fra poco, si prepara per la donna. Grazie a tutti, buon lavoro a chi adesso, fra poco, si prepara per la donna. Grazie a tutti, buon lavoro a chi adesso, fra poco, si prepara per la donna. Grazie a tutti, buon lavoro a chi adesso, fra poco, si prepara per la donna. Grazie a tutti, buon lavoro a chi adesso, fra poco, si prepara per la donna. Grazie a tutti, buon lavoro a chi adesso, fra poco, si prepara per la donna. Grazie a tutti, buon lavoro a chi adesso, fra poco, si prepara per la donna. Grazie a tutti, buon lavoro a chi adesso, fra poco, si prepara per la donna. Grazie a tutti, buon lavoro a chi adesso, fra poco, si prepara per la donna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.